Stanno festeggiando! Esatto, un regalo di San Valentino possiamo dire Tiziano Beh aspettiamo No raccontacelo come è andata Beh allora è stato un batti e ribatti in area dopo un tiro di Teo Hernandez che riesce in un contrasto a tenere palla a entrare in area Finita, finita Tiziano dammi questa manina qui Bella Tiziano Vittoria meritata del Milan Allora io direi una vittoria meritata, vero Tiziano? Sì, il risultato è stress Meritatissimo, nel secondo tempo il Milan ha avuto tre grosse opportunità per raddoppiare Le ha mancate anche per l'emerito dei vari giocatori ma comunque il risultato Milan batte Tottenham 1-0 è meritatissimo